Amici, sono venuti alla nostra festa del mondo. Come sapete, il nostro locale si è aperto tutte le sere, organizza sempre per i nostri clienti delle serate originali. Questa sera, come vedete, è dedicata a Natale, il Natale di Stato. E naturalmente faremo la solita gara, con un premio favoloso per il vincitore. Allora, il nostro sito è il nostro sito. Stai sera, ma quando mi chiede? Ma quando mi chiede? Sì, ma quando mi chiede? Il nostro costume più originale. Ciocio! 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 Mi pare che non ci siano disini. Eh, ma questa sera è un più difficile. Allora, signore e signori, il concorrente con il costume più originale è il nostro Ciocio! Complimenti, Ciocio! Sei migliore! Sì, ma questa è la promenifica più mezza! Sì, ma questa è la promenifica più mezza! Sì, ma questa è la promenifica più mezza! Sì, ma questa è la promenifica più mezza!